Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Antifascismo e memoria della resistenza, valori fondanti dell'azione regionale. Nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate. Un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza verrà inserito nello statuto della regione toscana. È quanto previsto dalla proposta di legge che è stata approvata in aula all'unanimità. Io sono orgoglioso del voto dell'assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana. Lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo statuto della regione toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di registrazione. Può essere un dato scontato ma non lo è. Il fatto che abbiamo voluto modificare lo statuto e inserire questi principi all'interno della carta fondamentale della regione toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale e l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dall'istituzione questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più. Sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza come già accaduto in Commissione. Questo però non ci esime dal fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula, una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della pidella statutaria per un approfondimento ulteriore in Commissione. Perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Respinto un emendamento del consigliere di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi. Noi abbiamo convintemente lavorato sia in Commissione e chiaramente poi con un voto affavorevole in aula, l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa, quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma l'abbiamo fatto senza eso. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. La legge è stata presentata dal Partito Democratico, primo firmatario il consigliere Andrea Vannucci. Una legge che mette il focus sulla promozione dell'attività fisica del movimento e che mette il focus sul tema della prevenzione, il puntare sull'invecchiamento attivo. La nostra è la regione tra le apripista rispetto al tema dell'attività fisica adattata. L'obiettivo che questa norma si pone è di estendere la platea delle persone potenzialmente interessate, quelle persone con fragilità croniche, penso a titolo d'esempio assolutamente non esaustivo a persone con diabete, persone dializzate, persone trapiantate, che avranno grazie a questa norma protocolli regolarmente aggiornati, pensati apposta per la loro difficoltà e lo avranno evidentemente sotto casa perché il meccanismo che funziona è il meccanismo dell'attività fisica adattata, dell'esercizio fisico adattato che ha dimostrato in questi anni di essere capace di raggiungere capillarmente ogni punto della nostra regione. Come gruppo di Italia Viva noi ci siamo espressi immediatamente in modo favorevole. C'è da dire però che c'è una serie e un numero importante di persone di patologie che oggi non hanno accesso a questo tipo di attività e noi pensiamo per dire alle persone che sono state colpite da ictus o che sono colpite da Alzheimer o che sono colpite da Parkinson o che comunque hanno avuto degli incidenti e una volta finito il percorso di riabilitazione si trovano fuori diciamo dal mondo dell'attività fisica adattata. È una materia sulla quale noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare ad intervenire perché i numeri sono importanti ma soprattutto perché è giusto che questo sia. Penso per esempio alle piscine. Alle piscine è quasi impossibile poter accedere per queste persone, soprattutto per le persone che hanno avuto ictus e che l'attività motore in acqua dà tantissimi benefici perché gli spazi e tempi sono pochi. Anche le piscine, le strutture che mettono a disposizione corsie vedono queste corsie ormai impegnate da tanti anni da chi è arrivato subito e che chiaramente non vuole smettere stante benefici che questa attività produce. Dobbiamo quindi intervenire per cercare di dare sempre più spazio e quindi maggiori risposte a quelle persone che oggi ne avrebbero bisogno ma che per mancanza di possibilità fisica non riescono a fare attività. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione proprio perché c'è stata un'animità fin dall'inizio della discussione. Riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone, debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che se non affrontate in tempo potrebbero anche diventare gravi. È un po' limitata perché secondo il mio punto di vista avremmo dovuto andare a vedere anche quelle che sono poi dopo le necessità per poter fare l'attività fisica perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che devono essere messi a disposizione per cui mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga soprattutto in commissione. È stata molto accelerata perché in due settimane l'abbiamo avuta due volte in commissione ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime due settimane con tanto di campagna elettorale, votazioni e tutto il resto e oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche una settimana, due settimane ripeto che è passata in commissione ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Con 21 voti favorevoli e 12 contrari è stato inoltre approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede l'accessione del pacchetto di maggioranza di Fili Toscana. Il nuovo processo di razionalizzazione interviene anche su sviluppo Toscana e prevede la valutazione e l'approvazione del nuovo piano industriale da parte della Giunta e dentro la fine dell'anno l'acquisizione di tutte le azioni SICI, sviluppo imprese della Centro Italia. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato quanto agli aspetti programmatori modificato andando incontro alle valutazioni che sono state compiute dalla Giunta regionale Toscana con riferimento a Fili Toscana, sviluppo Toscana e anche a IMM Carrara Fiere SPA. Da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in house della Regione Toscana che si occupi della programmazione, dello sviluppo economico della Regione concentrando in sviluppo Toscana questa funzione. Dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fili Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fili Toscana mediante la cessione di quote a investitori privati che ne rilancino la mission e inseriscano Fili Toscana in un programma di sviluppo della Regione che però sia differenziato da quello di sviluppo Toscana. Del resto la legge Madia ma anche la Corte dei Conti impone che non ci sia una duplicazione di società partecipate che svolgano la stessa funzione e quindi la programmazione regionale si è orientata nel riconoscere da una parte in sviluppo Toscana la società in house che dovrà curare in maniera complessiva e generale lo sviluppo economico della Regione e dall'altra parte distinguendo le funzioni, la mission e anche la compagine societaria di Fili Toscana. In campagna elettorale si dice che si vuole rendere interamente pubblico il capitale di Fili. Ora si fa questo cambiamento repentino e veramente drastico di linea e si mettono le azioni di Fili sul mercato. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzie a digestione delle garanzie. Sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro rosio per Fili Toscana. Il sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fili e abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di internazionale Marmi e Macchine di Carrara. Ovvio perché ci sono degli scostamenti significativi rispetto al piano industriale 2021-2024. Ma è soprattutto il sistema fieristico che ci mette veramente in preoccupazione perché ogni anno si perdono delle risorse che vanno ricoperte con i soldi dei toscani e non vediamo una visione chiara da parte della Giunta per rilanciare il sistema fieristico così come il settore termale. Manca ancora il piano strategico regionale che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della Regione, del loro ruolo, della loro funzione, cosa potenziare e cosa eventualmente dismettere. La questione di Fili Toscana, ad esempio, credo che sia stata gestita in una maniera non corretta perché prima si è dato un certo indirizzo nel corso di questi cinque anni nell'ottica di un in-house quando invece adesso le prospettive che sembrano aprirsi sono completamente diverse. Ecco, questa mancanza di una programmazione e di una linea di continuità ci preoccupa molto. Mentre con l'operazione di Fili in House le risorse per questa operazione erano certe oggi noi facciamo un salto nel buio. Anche la prospettiva di sviluppo toscana che dovrebbe essere rafforzata come agenzia di sviluppo oggi è totalmente piena di interrogativi tra l'altro interrogativi che sono riproposti anche con forza nelle stessi atti della Giunta, nelle stesse osservazioni che sono state fatte ai piani industriali. C'è un cronoprogramma che noi riteniamo presenti, forti, non dico lacune ma quantomeno delle forti discrasie, un piano industriale di Fili Toscana che dovrà essere ancora approvato, un CDA chiamato a ridurre i costi. È una situazione estremamente complessa che dovrebbe vedere forse anche un maggior coinvolgimento del Consiglio regionale. La sensazione invece è che molto spesso alcune decisioni, soprattutto quella che riguarda le possibili manifestazioni di soggetti privati che dovrebbero diventare soci di maggioranza di Fili Toscana e quindi anche rilanciare la società, ad oggi non si vedono. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. Il secondo aspetto è che c'è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza di un pacchetto di maggioranza misto pubblico privato nel quale la regione si riserva di avere un minimo del 10%. Questo tradotto che vuol dire? Vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70, l'80% di Fili Toscana ma alla regione venderne soltanto un 10%. Quindi potrebbe succedere per assurdo che la regione toscana si potrebbe ritrovare un domani ad avere Fili Toscana ancora di proprietà ma avendo perso ogni possibilità di determinarne le scelte. È tutto, questa era la nostra ultima intervista. Grazie per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.